Leggiamo questo brano della scrittura veramente con cuore ben disposto. Giosuè, capitolo 1, dal primo verso, Dio sia lodato. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. Dal deserto e dal Libano che vedi là, fino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso l'Occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te, tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, così sarò con te. E non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sì forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese, che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sì molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Diciamo gloria a Dio insieme. Chi ne ha i nostri capi. Padre grazie con tutto il cuore, perché anche stasera ci metti dinnanzi la tua preziosa e benedetta parola. Grazie per queste parole meravigliose che raggiungono il nostro cuore. Già la lettura è una benedizione, è un ristoro per ognuno di noi. E noi ci affidiamo a te, o Signore, perché sappiamo che attraverso questa parola benedirai le anime nostre, o Signore, raggiungerai il profondo del nostro cuore. A te ci affidiamo, a te rendiamo grazie, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria a Dio. Il testo che abbiamo letto riguarda un momento difficile della storia del popolo di Israele. Intanto si trovano ancora nel deserto, al di qua del Giordano, dopo 40 anni di cammino e di stanchezze, probabilmente anche di delusioni, eccetera, a un certo punto, dopo 40 anni di cammino, muore la loro guida spirituale, muore Mosè, colui con il quale Dio parlava faccia a faccia, colui al quale Dio spiegava cosa dovevano fare, colui che nei momenti difficili si piazzava dinnanzi al Signore e intercedeva per il popolo. Sapeva ragionare con Dio, sapeva lottare anche con Dio in preghiera, sapeva presentare le difficoltà e i problemi del popolo, sapeva difenderlo anche nel momento della debolezza, presentandosi dinnanzi al Signore. Mosè conosceva la voce di Dio e guidava questo popolo nel deserto. La dipartita di Mosè getta sicuramente sconforto in tutto il popolo. E ora come faremo? E ora chi ci guiderà? Già hanno vissuto momenti difficili nel deserto, ma eccoli che adesso sono ancora in difficoltà. Ma attenzione, ho detto che era morto Mosè, non ho detto che era morto Dio. Gli uomini passano, gli uomini vengono meno. Dio è colui che era, che è e che sarà. Rimane in eterno. Ecco perché il Signore ci invita a non riporre la nostra fiducia nell'uomo, anche i potenti della terra, i principi, perché il loro fiato se ne va, dice. Quindi moriranno. E allora è maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ma è benedetto l'uomo che confida nel Signore. Abbiamo letto un'affermazione in questo testo dove dice al versetto 8, io sarò con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. teniamolo come verso centrale di questa meditazione. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò, dice il Signore. Io sarò con te. E inizia proprio così il nostro testo. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè. Egli disse, Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano tu, con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Gloria al Signore. Dopo la morte di Mosè, il Signore parlò. L'uomo viene meno, ma Dio continua a parlare. Egli prende in mano le redini, prende in mano il controllo alla situazione, anzi non ha mai lasciato il controllo perché era il Signore stesso che guidava Mosè nel guidare a sua volta il popolo di Israele nel deserto. Dopo la morte di Mosè, Dio sceglie l'uomo che dovrà prendere cura di questo popolo. Non è il popolo ad agitarsi, non è il popolo a preoccuparsi, non è il popolo a dire ma chi fra di noi può essere capace, chi sarà quell'uomo. Dio stesso chiama coloro che pensa che siano utili per l'opera sua. Dio scelse Giosuè, lasciatemi dire, per una missione, umanamente una missione impossibile, la possiamo definire missione impossibile. Giosuè venne chiamato ad alzarsi e ad attraversare il Giordano con tutto questo popolo. Stiamo parlando di quasi due milioni di persone, un milione e mezzo certo di persone, poi non abbiamo dati ancora più certi di questi e oltre tutti gli animali, su pellettili, potete immaginare un movimento straordinario. Ci preoccupiamo a volte e non riusciamo a gestire quelle poche migliaia di persone che arrivano, o centinaia di migliaia che arrivano nell'arco di un anno, non nella nostra nazione, in Europa, figuriamoci un popolo di diciamo un milione e mezzo di persone con tutto il annessi e connessi, è qualcosa di impossibile ed erano chiamati ad attraversare il Giordano e la scrittura ci spiega che in quel periodo il Giordano straripa dappertutto, durante tutto il tempo della nietitura. Non parliamo di un fiume in secca ma di un fiume che in quel periodo straripa dappertutto. Giosuè viene chiamato da Dio per una missione impossibile. Allora il pensiero stasera è questo, quando ci troviamo di fronte ad una missione impossibile, quando dico missione una situazione impossibile, quando ci troviamo di fronte ad un ostacolo grande, una cosa che non riusciamo a gestire, non abbiamo l'esperienza per gestire. Giosuè non era Mosè, vero, era servo di Mosè, era stato alla scuola di Mosè, aveva sicuramente osservato il comportamento di Mosè, probabilmente aveva gli stessi sentimenti che aveva Mosè, dimostrazione ne abbiamo che egli si unisce a Caleb e sono gli unici due che portano un resoconto obiettivo e di fede, a differenza degli altri dieci esploratori che dicono che era impossibile, che erano spaventati addirittura dei cananei. Giosuè invece ha fede in Dio, ha imparato certamente ad avere fede in Dio osservando il suo maestro Mosè, ma non aveva ancora mai avuto in mano le redini della situazione. Dio chiama proprio Giosuè e per ben tre volte in questo testo si è andata a rivedere con attenzione, non vi do i versetti questa volta, ve li andate a cercare come compito a casa, d'accordo? Quindi per ben tre volte trovate un'affermazione, un'incoraggiamento o un'esortazione che Dio dà a Giosuè sii forte e coraggioso. Dio stesso sta dicendo a Giosuè la missione non è facile, la situazione non è facile, non dal punto di vista di Dio, dal punto di vista di Giosuè. Dio si immedesima in questo uomo, non è più giovanotto, ha ormai la sua età, Dio si immedesima in questo uomo e per ben tre volte gli dice sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso. Il compito che gli sta dinanzi non è semplice, è come una montagna che non si può scalare e come appunto un mare che non si può quindi attraversare soprattutto con un popolo così numeroso e allora ecco è una missione impossibile, è una situazione difficile, impossibile per gli uomini. Per affrontare determinate situazioni della nostra vita Dio stesso ci dice che ci vuole forza e coraggio. Non è una parola che viene da un altro uomo, è una parola che viene da Dio perché Dio vede l'effettiva difficoltà che sta dinanzi all'uomo e ripeto Dio si immedesima nell'uomo e vede le cose dal punto di vista umano e allora dice a Giosuè sii forte e coraggioso. Il fatto che lo ripete per ben tre volte vuol dire che vuole imprimere nella mente di Giosuè che il compito che gli sta dinanzi è un compito veramente arduo ed è difficile e c'è bisogno di forza e c'è bisogno di coraggio. Ci sono tante situazioni che affrontiamo anche noi nella nostra vita dove abbiamo bisogno di forza e di coraggio. Riconosciamo che le nostre forze non sono sufficienti, riconosciamo di non avere il coraggio di affrontare delle situazioni difficili, impossibili, ma il Signore ci parla. Come il Signore parlò a Giosuè il Signore parla a ciascuno di noi e a chiunque sta affrontando momenti difficili il Signore interviene con questa parola, sii forte e coraggioso. Ma non termina qui ovviamente con queste parole, il Signore vuole dire a Giosuè dinanzi a questa situazione difficile sii pronto ad affrontare le circostanze ed è il primo punto che vogliamo esaminare insieme, la parola che giunge a me, che giunge a te, sii pronto ad affrontare le circostanze. Le circostanze non sono sempre piacevoli, il nostro cammino non è sempre una passeggiata piacevole con il Signore, a volte le circostanze sono avverse, le circostanze sono avverse vuol dire che sono contro anche di noi, remano contro, non a favore, i venti sono contro, non sono a favore, il nemico si scaglia anche contro i figli di Dio, una malattia può scagliarsi in maniera terribile, tremenda e abbattersi in una casa, in una famiglia, in una vita e gettare quindi tutti nello sconforto, la parola in realtà ci vuole dire stasera sii pronto ad affrontare le circostanze. Ora se notate quando Dio chiamò Mosè nel deserto, Mosè non era pronto ad affrontare la circostanza, perlomeno non si sentiva pronto ad affrontare la circostanza e disse chi sono io per andare dal faraone e ma io non so parlare, insomma mise davanti un'infinità di scuse perché non si sentiva pronto ad affrontare. Giosuè non replica alla parola di Dio, Giosuè non dice a Dio no e chi sono io per guidare questo popolo al di là del Giordano, notate che dopo le parole che Dio rivolge a Giosuè al verso 10 leggiamo allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo, preparatevi dei viveri perché fra tre giorni oltrapesserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio vi dà affinché lo possediate. Nessun tentennamento, nessun ma, nessun perché, nessuna difficoltà, Giosuè non dice ma Signore ma chi sono io, ma il Giordano in questo periodo straripa da tutte le parti, come faremo? E allora ecco, sii pronto ad affrontare le circostanze. Giosuè era già ben preparato per affrontare le circostanze e ogni buon credente non deve affrontare le circostanze impreparato, non deve trovarsi dinnanzi alle difficoltà o a missioni impossibili senza forze, senza coraggio e impreparato, ma ogni buon credente deve essere pronto ad affrontare qualunque circostanza e non sempre, ripeto, le circostanze sono semplici ma Dio ci invita a crescere nella grazia, nella conoscenza, a crescere quindi in statura spirituale dinnanzi a Lui per essere degli uomini compiuti, maturi, preparati per ogni cosa. Ciò ci dice che non dobbiamo sprecare il nostro tempo inutilmente ma quando abbiamo tempo e quando abbiamo l'opportunità vogliamo impegnarci per conoscere meglio il Signore, per conoscere la sua volontà, per fortificare la nostra fede nel Signore, per conoscere la sua parola, per essere pronti ad affrontare le circostanze. Il primo aspetto che vedo emergere proprio da questo testo è questo, sii pronto ad affrontare le circostanze e abbiamo bisogno fratelli cari e sorelle di distogliere gli occhi da noi stessi, di distogliere gli occhi dalle nostre capacità, dalle nostre forze e riguardare al Signore. Tutte le volte che poniamo lo sguardo su noi stessi, sulle nostre capacità e non confidiamo nel Signore, non riguardiamo al Signore, veniamo meno, soccombiamo di fronte alle difficoltà, abbiamo bisogno per affrontare le circostanze innanzitutto di non confidare né nell'uomo ma neanche noi stessi, ma di riguardare al Signore, cioè di confidare in Lui, di confidare nella sua parola, di confidare nelle sue promesse. Dio dice a Giosuè alzati, attraversa questo Giordano, tu con tutto il popolo per entrare nel paese che io do. E Giosuè dà ordini ai comandanti, ai capitani di passare per tutto il popolo e dire preparatevi dei viveri perché fra tre giorni non dice proveremo ma oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà. Questo significa confidare nella parola di Dio, confidare nelle promesse del Signore. Non mettere in dubbio la parola di Dio e le sue promesse. E allora qual è l'ordine che riceve Giosuè? Alzati e attraversa questo Giordano. Attraversa questo Giordano. Che cosa significa attraversare questo Giordano? Non è il Giordano di due mesi prima, di tre mesi prima, di sei mesi prima. Attraversa questo Giordano. Abbiamo già detto e vi dico anche il riferimento al capitolo 3 dal versetto 15 quando entrano nelle acque appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva, aggiunge il Giordano straripa dappertutto durante tutto il tempo della mietitura. Il Giordano che viene chiamato ad attraversare non è un Giordano facile da attraversare, è un Giordano in piena, è un Giordano che straripa e voi sapete il danno che le acque fanno quando straripano, il pericolo che c'è quando le acque straripano, la potenza delle acque quando straripano e allora alzati attraversa questo Giordano significa andare incontro a delle forze potenti straordinarie che non sono forze a favore ma sono forze contrarie, significa andare incontro a formidabili e potenti nemici. Vediamo la difficoltà di attraversare il Giordano dal punto di vista spirituale. Attraversa questo Giordano vuol dire che il Giordano rappresenta un ostacolo, un ostacolo insormontabile, ripeto perché straripa dappertutto nel tempo della mietitura. Dio sta dicendo a Giosuè di affrontare questo Giordano e non è un uomo che deve provare ad attraversare il Giordano ma è un uomo con qualche milione di persone alle spalle, con anziani, bambini e donne, gli ammalati e tutto ciò che potete immaginare. Viene chiamato ad una missione impossibile, attraversa questo Giordano. Il Giordano ripeto rappresenta un ostacolo ma il Signore invita Giosuè ad essere forte e coraggioso e con la forza di cui il Signore parla, il coraggio di cui egli parla, vogliamo essere pronti ad affrontare le circostanze. Anche un Giordano che ci parla di difficoltà, di ostacolo. Gli ostacoli che il nemico mette dinnanzi a noi sono ostacoli possenti dove c'è bisogno di coraggio e c'è bisogno di forza e ancora una volta, ripeto, sii pronto ad affrontare le circostanze. Innanzitutto attraversa questo Giordano e poi aggiunge per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Attraversa questo Giordano entra nel paese, per entrare nel paese. Il paese anche esso non è un paese bello nel quale viverci subito. Anche il paese è un paese ostile. Più avanti al capitolo 2 c'è tutto un elenco delle popolazioni che vivono in questo paese e che non sono popolazioni pacifiche, non sono popolazioni che accolgono con amore, sono popolazioni dure da affrontare e quindi entrare nel paese, sta dicendo il Signore, entra in questo paese ostile. Non avrebbe trovato gente con le mani tese per aiutarli, per incoraggiarli, ma avrebbero trovato armi, avrebbero trovato carri da guerra, avrebbero trovato gente pronta a difendersi e per certo sappiamo che in quel paese, secondo il racconto dei dodici esploratori, vi erano dei giganti. Dicevano i dieci rispetto ai quali noi sembriamo delle cavallette, delle locuste, talmente alti sono questi uomini. E poi in quel paese ci sono delle città fortificate. Noi non possiamo affrontare questo paese, non solo, ma vi era un'idolatria dilagante in quel paese e il popolo di Dio deve confrontarsi con questo paese. Ecco la ragione di quelle tre volte in cui Dio dice sii forte e coraggioso, perché c'è un ostacolo da affrontare che il Giordano? C'è un paese ostile d'innanzi, un paese pronto a difendersi fino alla fine. Vi sono dei giganti e città fortificate, il popolo di Dio è in difficoltà, ma il Signore gli dice sii forte e coraggioso. Non ho dimenticato, non lo ripeto perché ho dimenticato, ma lo ripeto perché voglio che rimanga impresso, sii pronto ad affrontare le circostanze. Ma Signore aspetta, dobbiamo fare prima un po' di addestramento, ci dobbiamo procurare delle armi perché appena oltrepasseremo il Giordano, ammesso che riusciamo ad oltrepassarlo, ci distruggeranno subito. Siamo un popolo di pellegrini, di viandanti, di gente stanca anche del cammino, ma ecco che dobbiamo essere pronti ad affrontare le circostanze. La pienezza dello Spirito Santo, le virtù dello Spirito di Dio, i doni dello Spirito Santo, il frutto dello Spirito Santo deve essere sempre vivo, costante, presente nella nostra vita per poter affrontare qualunque circostanza e non soccombere dinnanzi ai problemi, non gridare di paura, di terrore, ma affrontarli con coraggio. Attraversa questo Giordano, entra nel paese e aggiunge tu con tutto questo popolo, specifica pure questo popolo, ecco tu con tutto non dice con tutto il popolo di Israele, ma con tutto questo popolo e stiamo parlando di un popolo stremato ormai da 40 anni di pellegrinaggio nel deserto. Allora tre ostacoli che scoraggerebbero qualunque guida spirituale, di esperienza dico, eh? Giosuè doveva ancora iniziare e prima ancora di iniziare nella chiamata Dio gli pone dinnanzi tre ostacoli che sono veramente grossi ostacoli, tre ostacoli che potrebbero scoraggiare qualunque leader spirituale, qualunque guida spirituale, qualunque credente che ama e conosce il Signore. La paura potrebbe prendere il sopravvento dinnanzi ad una situazione di questo genere e quando la paura prende il sopravvento si fanno e si dicono cose che dispiacciono al Signore, che non sono equilibrate. Quando Mosè inviò gli esploratori videro i giganti, è vero, videro i giganti, ma secondo il rapporto di Raab, ricordate Raab, la prostituta, la prostituta di Can, di Gerico, dove gli esploratori si rifugiarono e trovarono rifugio, vennero nascosti. Bene, se andate a leggere la storia al capitolo 2, i versetti 10 e 11, ascoltate cosa dice questa donna parlando con gli esploratori, poiché noi abbiamo udito, seguite bene, noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi. Quando accadde la cosa delle acque del Mar Rosso dinnanzi a loro? Almeno 40 anni prima, stiamo seguendo tutti? 40 anni prima. Abbiamo udito, dice questa donna, che il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e quel che faceste ai due re degli Amorei di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, perché il Signore, il vostro Dio e Dio lassù nei cieli e qua giù in terra. Circa 40 anni prima gli esploratori dissero lì ci sono i giganti, si spaventarono. Ma quando Rab fa questo rapporto i dodici esploratori realizzano che la paura aveva preso questo popolo ed essi non avevano conquistato Gerico soltanto per paura e non si erano mossi e non erano andati avanti, non avevano progredito nel loro cammino di conquista verso Canaan, verso la terra promessa perché spaventati dai giganti e dalla città fortificate. Che cosa voglio dire con questo? Avrebbero potuto conquistare la terra promessa 40 anni prima? Persero 40 anni della loro vita, la paura gli impedì di gioire delle promesse del Signore. Dio gli fece una promessa che gli avrebbe dato quella terra, la paura, il timore impedì a tutto questo popolo di possedere la promessa del Signore. Persero 40 anni. Quante promesse del Signore non hai o non abbiamo ancora realizzato probabilmente per timore e per paura e il timore e la paura vuol dire per mancanza di fiducia nel Signore. Quante volte diciamo che le promesse del Signore sono sì ed amen, è vero? Dio mantiene le promesse, le promesse di Dio sono fedeli, ma non crediamo e non abbiamo fiducia che alcune promesse possano realizzarsi nella nostra vita e non le viviamo, non le realizziamo, proprio come il popolo di Israele non entrò in Canaan perché temeva le città fortificate e i giganti. Un esempio soltanto. Se vado avanti e leggo tipo in Romani, capitolo 8 verso 1, c'è una promessa del Signore, una verità che afferma la scrittura, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ci crediamo a questa parola? Non ci crediamo. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E vi sono credenti che ancora oggi non si sono appropriati di questa verità? Perché se sei in Cristo Gesù non c'è più nessuna condanna da parte del nemico su di te, Dio ti ha giustificato. Per mezzo di Gesù, gloria al Signore. Una promessa che troviamo nella prima lettera di Giovanni, chissà quante volte l'abbiamo letta, l'abbiamo meditata, dove dice se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E c'è ancora chi trova difficoltà a confessare col cuore i propri peccati al Signore. E continua a parlare della impossibilità, della difficoltà di affrontare i peccati eccetera. Vive ancora schiacciato sotto il peso dei peccati quando il Signore ha promesso se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E vi sono credenti pure, tra virgolette, che spendono, altro che 40 anni, spendono la loro vita senza credere fermamente che il Signore è pronto a perdonare i peccati e a purificarli da ogni iniquità. In Filippesi al capitolo 4, i versetti 6 e 7, leggo Non angustiatevi di nulla, non siate preoccupati, ansiosi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche e accompagnate da ringraziamento. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Il popolo di Israele perse 40 anni nel deserto. Quanto tempo stai spendendo tu senza credere alle promesse del Signore nella tua vita? Quanto tempo sprechiamo insieme? E allora sii pronto ad affrontare le circostanze? Per essere pronti ad affrontare le circostanze vogliamo anche avere fiducia nella parola del Signore. È vero ci sono ostacoli ma abbiamo letto che il Signore ha promesso di essere con noi, io sarò con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò, sii forte e coraggioso. La forza e il coraggio dipende dalla nostra fede in Dio, dalla nostra fede nelle sue promesse. Non temere per il tuo futuro, sii forte e coraggioso, abbi fede in Dio, il Signore ha promesso di essere con te e di provvedere. Non solo sii pronto ad affrontare le circostanze, ma stando al testo io scopro pure che dobbiamo essere pronti a considerare le istruzioni che Dio ci dà. È vero, sta dicendo a Giosuè, sii pronto ad affrontare le circostanze difficili che ci sono, ma sii anche pronto ad ascoltare, a considerare le mie istruzioni. I versi 3 e 4 vado a rileggere, ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là sino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al mar grande verso occidente, quello sarà il vostro territorio, dice la parola di Dio. Poi dal verso 7 aggiunge, solo sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Sii forte e coraggioso, ma aggiunge pure, sii pronta a dare ascolto alla mia voce, questa parola, la parola, il libro della legge, non si diparta dalla tua bocca, abbi cura di metterlo in pratica, non solo di meditarlo, di metterlo in pratica e vivere tutto ciò che hai scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora tu prospererai. La vittoria è vero, è nel nome di Gesù, ma la vittoria dipende anche dal nostro rapporto con la parola di Dio. Gloria al Signore, di tutte le risorse di incoraggiamento che possiamo trovare attorno a noi, in casa nostra, ma anche fuori di casa nostra, vi assicuro che la scrittura, la parola di Dio è la fonte più grande, più autorevole, più potente di incoraggiamento. Per quanto possano essere efficaci le parole degli uomini, la parola di Dio è al di sopra di ogni cosa ed è l'unica fonte di vero incoraggiamento per ognuno di noi. Ed è nella parola di Dio che noi troviamo il Signore che ci parla nei momenti di crisi, nei momenti difficili, come era il tempo di Israele a quel tempo, dove dice sii forte e coraggioso. La parola di Dio che non va presa come le pillole che possiamo prendere per una o l'altra malattia e si legge il versetto, si legge il versetto e c'è la cattiva abitudine oggi forse di non leggere più la parola di Dio ma probabilmente di nutrirsi con quei messaggini che arrivano insieme al buongiorno sul whatsapp dove c'è un versetto della Bibbia. Pensiamo di fare cosa buona inviando il versetto della Bibbia e la gente pensa di aver ricevuto quel versetto come una pillola che ci aiuta ad affrontare la giornata. Non è questo il modo di leggere, di meditare la parola del Signore. Sulla parola di Dio ci dobbiamo dimorare, sulla parola di Dio dobbiamo spendere del tempo, ci siamo o no? Allora qui dove dice abbi cura, seguite cosa dice la parola, questo libro della legge non si riparta dalla tua bocca ma abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, in questo abbi cura tutto ciò che vi è scritto, non soltanto la pilloletta, il versetto che ci piace, la promessa che ci fa piacere sentire ma tutto ciò che vi è scritto. Nella Bibbia non ci sono solo promesse, ci sono esortazioni, ci sono rimproveri, ci sono ammaestramenti, c'è un'infinità di notizie che ci riguardano. Abbi cura, quindi osservare con cura, che cosa vuol dire osservare con cura se non come dice nel Nuovo Testamento investigare le scritture. Investigare non ci richiama ad uno sguardo superficiale ma l'investigazione approfondisce, ingrandisce i particolari. Investigare, nessun particolare deve sfuggire, i pezzi vanno messi insieme, davanti, bisogna meditare, riflettere, collegare, pensare, pregare il Signore, ricevere la guida dello Spirito Santo, non trascurare nulla, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, abbi cura, osserva con attenzione, investiga le scritture. Per essere pronto nel momento della difficoltà, per essere pronto ad affrontare le circostanze, abbi cura, non solo abbi cura ma aggiunge metti in pratica, cioè ubbidisci, non ignorare ciò che leggi, ma tutto quello che leggi va vissuto, va messo in pratica. viviamo oggi in una generazione dove tende a dire che la parola di Dio riguarda la cultura di quel tempo e non è per noi, dimenticando che l'autore di questa scrittura è eterno, era e sarà e la sua parola rimane per sempre. Cielo e terra passeranno ma le sue parole non passeranno già mai, sono attuali anche oggi. Non essere di quelli che dicono secondo me si può fare in questo modo se la parola ti dice che è in un altro modo che devi fare e se la parola ti dice che una cosa è peccato, tu non dire che non fa nulla, che è una piccolezza. Abbi cura di mettere in pratica, di mettere in pratica, cioè di obbedire, non ignorare tutto ciò che vi è scritto e aggiunge pure non te ne sviare né a destra né a sinistra, in realtà vuole dire non decidere tu. La parola è la regola da seguire, non decidere tu se andare a destra o andare a sinistra, se interpretare in un modo o in un altro, ma non decidere tu ciò che è giusto e ciò che non è giusto e per due volte ripete questo concetto nel versetto 7 ma anche nel versetto 8 perché abbiamo bisogno di ripetere la lezione, abbiamo bisogno di imparare meglio, abbiamo bisogno di ricordare, abbiamo bisogno di ricevere queste cose perché noi siamo un po' come dei vasi imperfetti perché non siamo perfetti, è il Signore che ci rende integri ma non siamo integri e allora un vaso che non è integro è un vaso che perde o che trasuda e pian piano perde, tendiamo a dimenticare, probabilmente come ci insegna la scrittura in alcuni casi gli impegni della vita, le cure mondane eccetera soffocano la parola del Signore e allora il Signore ripete, ripete per due volte abbi cura, metti in pratica, non te ne sviare né a destra né a sinistra, mai sentirsi pieni, mai sentirsi a posto ma tutti noi abbiamo bisogno di tornare alla parola con cura, con attenzione, metterla in pratica senza sviarci né a destra né a sinistra. Grazie per la visione! Grazie per la visione!